A nome dell'organizzazione vi do il benvenuto a Cremona 2009. Il tema sono le neopresie delle ossa e delle parti molli, come vedete, dalla diagnosi alla terapia, che è il filo conduttore che ha guidato tutti i nostri conveni. Abbiamo iniziato nel 2001 le neopresie del pancreas, nel 2002 le neopresie del rene e sul rene, le neopresie della vescica, del genitale nel 2003, le neopresie della pelle femminile nel 2004, poi nel 2005 abbiamo continuato con le neopresie del fegato, nel 2006 le neopresie del apparato digerente, le neopresie del capocollo e l'anno scorso le neopresie del torace. Sono nove anni, credo di successi, anche quest'anno abbiamo 320 persone iscritte, c'è un collegamento anche con un'aula sottostante, il successo dipende solo in piccola parte dall'organizzazione, dipende soprattutto dagli oratori che di anno in anno abbiamo invitato, e quindi colgo l'occasione pubblica 20 ore per ringraziare la sezione muscoloscheletrica della SIRWE, il suo presidente, che mi hanno aiutato a progettare questo convegno. Alcune piccole istituzioni per l'uso, nel kit con il reso vale, anche quest'anno, troverete l'ideopresie del torace, un DVD la cui realizzazione tecnica è dovuta al dottor Marini, che ogni anno si allarga, quest'anno ha visto che invece di riservarsi due sedie, ha riservato se stesso e tutto il suo gruppo una fila intera di sedie, in poltrone, per coloro che non avessero avuto modo di avere i DVD, vi è la possibilità, consultando appunto il sito, VU Radio Giacchina, che credo sia il primo sito italiano di radiologia, coloro appunto che non hanno avuto questi DVD, hanno modo di consultare tutta la produzione multimediale su questo sito. Su questo stesso sito, già stasera, o al più tardi domani mattina, voi troverete le risposte al test ECM. Nel momento in cui stiamo per avviare questo convegno, in realtà noi già stiamo passando anche al 2010, e le proposte sono le neopresie nell'infanzia, le neopresie del sistema nervoso centrale, le neopresie mammarie. E' probabile che questo convegno si tenga unitamente alla sezione di etica e medicina forense, per cui siete invitati a esprimere la vostra preferenza in base alla quale noi ci regolari arriviamo per organizzare il convegno. Vi ringrazio nuovamente per essere presenti, diamo la via ai lavori, però pregherei il dottor Caudana, come presidente della sezione muscolasqueletrica, di due parole, grazie. Buongiorno a tutti, bene arrivati, grazie. Siamo noi che dobbiamo ringraziare Lucio Olivetti per averci coinvolto come sezione, ma io mi sento di ringraziarlo anche come radiologo lombardo, quindi lo faccio anche in rappresentanza dei radiologi lombardi, perché Lucio da nove anni, l'anno prossimo è il decimo, mi pare, da nove anni organizza questi corsi che hanno un largo seguito, lo fa con tenacia, sempre con degli argomenti attuali, oltretutto coinvolgendo sempre dei gruppi di persone molto referenti nel settore specifico, quindi a nome anche di tutti i radiologi lombardi desidero ringraziarlo e fargli un in bocca al lupo anche per l'anno prossimo e ti meriti un applauso. Senza perdere un ulteriore tempo, iniziamo con quella che per coloro che parlano bene è un overtur, l'ouvertur del professor Karlaschi che appartiene alle neoplasie delle ossa, una sfida al radiologo. Bene.